E signori come ogni inizio season siamo qua con la gang per fare la nuovissima 4 angoli challenge let's go E la 4 angoli challenge ma siamo in 3 come cazzo è possibile Sì oggi non c'è il signor best signori ma nessun problema dovremo comunque riuscire a triardare e vincere sta partita Ragazzi fermi tutti perché ho la battuta del secolo best è best spawnato non de spawnato ma best spawnato Lo banni tu o lo banno io? No no guarda possiamo lasciarlo dentro perché non è simpatico e vabbè Stavo dicendo per il video essendo che sto parlando per il video mi stai confondendo po' anche a me cioè mi stai facendo andare in trippi il cervello Dicevo signori quindi triple angoli challenge e con le nuove zone della mappa è molto più complesso Essendo che io sono qua vicino ma dovrei andare a sweet sanguigne e appena ci andrò sarà abbastanza complesso Rega voi iniziate a venire verso di me se dovreste riuscire perché sarebbe molto molto meglio Guarda io sto a ricci in refe ricci in refe sta refe e mi sto lottando tutto quanto perché non c'è sta anima Viva godurioso godurioso Chiaro io vi sto dicendo però che da me potrebbe essere full pieno di persone quindi venite a darmi una mano ecco Ah da me c'è un full team allora ragazzi da me c'è un full team letteralmente l'ho visto davanti Scappa Powa scappa se ormai le datoni puoi andartene via Powa sa cosa farà adesso ferro li pusherà Sì ragazzi Non lo vedete pesate se li pusho cioè alla fine sono forte io no Powa ci muore al 200% per favore In frattempo rega per tutti voi che state guardando codice ferro sempre per sempre nei negozi oggetti per il vero e massimo supporto Mi raccomando gang veterani innovativi persone nuove o altro Snapperoni maccheroni Snapperoni maccheroni no Comunque oltre questo like iscrizione al canale e commentate con chi secondo voi farà più che le classi dal team in questa tre angoli challenge E avete anche dubbi? Sono qua ragazzi Ci stanno persone da me piuttosto Riuscite a venire da me a mano per favore Sto arrivando tesoro Aspettami Aspetta però che mi teletrasporto Sì certo ti teletrasporti raga qua è full team Sto arrivando Ma ho appena preso pure le armi mitiche Ma ti ho detto che sto arrivando ma più che dirti che sto arrivando cosa ti devo dire zio patatina Qualcuno ti ha interpellato nessuno ti sta parlando Mi sta chiedendo di dire te idiota Idiota Senti sono un alieno già elegante con tre mani Sono una ragazza viola hai qualche problema Senti che schifo rara Senti i tuoi fidanzatini come litigano Dai Pua che tu hai la skin del fenicottero Non ti dico che cosa sembra Uh attenzione Vabbè raga hanno pure rebuttato la me e ci stanno No raga per favore davvero Sto arrivando Sto corriendo Tra l'altra volta zio pera me ne vado a fare in bego eh Allora signori ci sta un full team lo pusho No come lo pusho No 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 che pusho Ok state tranquilli No non ho un altro team ancora però questa cosa non va bene Non mi piace aiuto 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 Ciao ragazzi sono ferro mi piace pusciarla gente e morire Ok fermi lo hai giottato uno di vita No raga ma io non ho parole raga ma io non ci credo Veramente Perché tu pusci da solo No no raga voi non vi rendete conto di quanta poca vita abbia uno Ucciso L'ho ucciso Mamma mia ma quanto è forte Sì ok potreste venire a mi dare una mano ora Ci vanno zio pera non me lo chiedere un'altra volta ti prego Raga big problem c'ho un tipo da me Spero che non mi veda mentre uso il razzo razzoide Porca madre mi sta sparando Mi sta sparando Mi sta sparando raga sono morto Devi scappare poi devi solamente scappare davvero No grande bro e adesso che me l'hai detto No grazie Signor ferro sono da lei Sono a sanguignalenti e gnegneglie Bravo andiamo a pusciarli si stanno prendendo le cose più belle queste Ma come andiamo a pusciarli ma scappiamo no Ma come ma tu vuoi vincere da eroe o vuoi vincere da plebeo Nulla contro però nel senso capisci Stai zitto ferro che arriva adesso il refe si trasforma in un razzo missile Contro il cui di mille valore tra le stelle sprinta e va Guarda là guarda là guarda là guarda là ferro non l'ho preso una volta Ma raga ma io sto arrivando io sto andando fuori safe per voi Ok da me da me è pieno di persone comunque Oh zio zio da me da me da me uno ho usato la ziplin Quelli che volano 10 10 20 arriva da te la ziplin ok Ok ziplin da me eccolo lo vedo lo vedo davanti a me ferro Altro che razzo missile Altro che razzo missile raga razzo non vorrei dire Stai arrivando sto arrivando verso di voi Bravo muoviti Ma dov'è ma dov'è ma che fa L'azera l'azera ha uno di vita Ucciso Non è finita No non ce la faccio ferro Allora devo andare a terra devo andare a terra Comunque bella sta pennichella Oh bella raga Vabbè la pennichella muoviti a venire bravo 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 È arrivato anche Poe Let's go raga Ora che tutto il team c'è di nuovo Possiamo tornare verso la vittoria Verso dei infinity and beyond Siete voi che state prendendo la ziplin No infatti ci stanno Orca dove è due Sto arrivando sto arrivando sto arrivando Sto arrivando Giovanni Mucciaccia Oddio è sopra da me è sopra da me Se no non posso smettere di farmi il medikit Se no sono morto Esatto Poe devi fightarlo per forza Allora io adesso mi curo e uso il razzo ariete E me ne vado in safe Raga da me Raga da me Andiamo in safe Ciao Via Sto andando anch'io in safe raga Scusatemi mi sono morto Se no Vola vola ferro vieni Ma come vola vola ferro vieni Mi avete lasciato vola solo contro il tizio Ma scappa idiota Il razzo ariete usalo Razzo missile Ha una razza missile Lo distrutto raga fermi Ma si trasforma in un razzo Ah safe è ripartita No no Raga di paura non ne ho Di paura non ho infatti morirò Paura i soldi mai avuti Me neanche cure vita a questo punto Userei dire No 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 raga fermi Ucciso Ok mi sono Ora vieni in safe che è più di gente Grazie Raga mi sono goduto lo show Almeno mi sono goduto lo show Nel mentre che far uccideva Vai Vai Raffer Razzo missile Porco due C'è gente alla mia destra Eh ce ne mangiamo Tanto sono più forti Vai vai su tutti a terra Su tutti a terra Su tutti a terra Kill e c'ho il loot della vita tuttora Oh perché valete una persona da me raga No ma dove sei andata Arriva Ranzo missile Penso che sia un intero team Ucciso uno Ucciso uno Perfetto Mamma mia quanto god Let's go Oh mi hanno sparato Ventre l'inario raga Mamma mia raga Io in sta partita servo Come il pane sulla cotoletta Comunque altro player da me raga Non mi sembra proprio Il più forte del mondo Fermi tutti Dietro di te Dietro di te Dietro di te Dietro di te Crackato 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 Ok l'ho visto Ho metto un altro team Questo invece sembra molto forte raga Raga c'è un altro team Tranquilli guys Lo vado a pushare Raga sono morto Sono morto Nel box No raga 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 per favore Eh bro 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 No raga l'ultimo intero Morto uno Morto uno Morto uno E raga Ahia mi sa Porco mondo Porco mondo No raga l'importante è non morire Rafferete dietro No dietro Zio perma Ma chi ha sentito No raga per favore Ok tirati quello poi Dovrai prendere la scheda E scappare e arrestare Raga per favore Bisogna far sì che questa partita Si svolga bene Perché abbiamo fatto la quattro angoli della vita O meglio la triangoli E morire così mi direbbe troppo fastidio Anzi a me visto che mo ci sono dietro Let's go allora Schede prese Vai al reboot dietro a sinistra Prendi pure la macchina No a sinistra Dietro a sinistra Dietro a sinistra Qua questo qua Questo qua tranquilli ragazzi Con calma Con calma Ce la facciamo RIPAWA Signori let's go Siamo risponati però C'è gente però Arrivano 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 Ragazzi mi ha distrutto Ragazzi mi ha distrutto Scappate se riuscite Io sto scappando Ragazzi Non posso ferro Sono atterrato Non posso scappare Mi stanno sparando Vedete Chiaro Io non posso venire a questo punto Scappate se riuscite qualsiasi Allora ragazzi sto facendo una cosa Sto facendo tutto il giro Piuttosto prendo danno Ma faccio tutto il giro Bravo bravo molto meglio Ragazzi niente Non potevo scappare Mi ha proprio Ma dai ma sono quelli di prima zio Eh no Mi sa di sì raga Perché sono Sono balica Sono solo una cosa raga C'hanno la mamma Che fa tantissime cose Ma non le cose Che non dovrebbe fare Ragazzi divertentissimo Guardare in questo momento La minimappa Nella quale ci siamo Io da una parte Poco totalmente dall'altra E non so se ci raggiungeremo mai zio E poi è nel cielo Quindi vi vedo a tutti e due Guarda Sono molto contento Abbiamo Abbiamo un angioletto Che ci aiuterà in questa partita Abbiamo uno spettatore Sono io Ciao Ok ragazzi Ho trovato tipo un nascondiglio perfetto Sono nel fieno E mi sto tirando Il ciag ciaggone Ferro Non morire Perché dobbiamo vincere Questa partita Non lo dico eh Vai tranquillo Anch'io Voglio per forza batterli Ma tu dammi solamente Un attimo che mi refullo Mi prendo i mazzi E questi qua gli faccio un 360 Buga 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 Cos'è che gli fai? Oh super me Pua ci stanno Complier là Quelli super Super me Allora Raga Calmi Non mi Non mi Non mi Non mi Concentrate Io sono concentrato Guarda Ho detto un termine Totalmente a caso Non mi prendete in giro Almeno Allora Fermi Non voglio morire Quindi campero E me ne vado tutt'altra parte Bravo Bravo Allora Ed è così che si vincono I tornei di forza Insai che mi insegna Va bene Mi insegna Non lo so più Interessante Interessante soprattutto Perché mi pushano No no Ferro io non posso venire Ad aiutarti Che faccio Razzo Ariete E fare in bego In bego dove ci vado Vai via Dandilip Tutto dalle parti Tranne che lì Ferro devi andare da Pua Eh no È l'unica parte dove dovevo andare Ferro vengo non vengo Dimmi veloce Non venire Non venire Non venire No era meglio di no Cercate di stare vivi Ok in teoria ci sono due team Che stanno pure fightando Cildino Ferro Raga dalla mia parte Non c'è assolutamente nessuno È un paradiso Da me ci stanno tre team Ci stanno tre team Non due Il fatto è che Razzo Ariete Allora Razzo Ariete Però spacca tutte le build Che ha intorno Esatto E mi ucciderebbero Aspetto che la save Mi lascia poca vita E poi lo uso La save adesso toglie tre No è impossibile Toglie tre Non toglie mai tre E refe Dove te lo sei mettato Zitto Non è vero Ma raga ma lo sapete Che refe volendo Può essere restato Sì Non avete la mia scheda Oddio C'è la safe Oddio raga Io sono in safe Un minuto Raga Ferro vado Prendo la scheda di refe Fammi rebuttare Rebuttami Vecchio se muoio Io giuro vengo a casa tua Ti spacco Ti spacco quella nuova Quella nuova stanza Che ti si è appena fatto Te lo dico Martellone Vai Sparti in aria Ferro Raga io sto facendo La provata della vita Vai bello E ora mentre Porco La miglior provata della vita Poi sto arrivando Sai che però Mi sa che non riesco A andare a prendere la scheda Ce la fai Io mi sa che non ci arrivo Non ci arrivo Io persone da dietro Per forza Ormai sono morto No Per forza ero morto Poi è tutto Giovanni e della mia scheda La portiamo a casa Poi la porteremo a casa Si porterà a casa Si porterà a casa C'è pure uno slurp Un coso Quattro slurp Vola Vola Eh non posso Aspetta A me mi dà fastidio Perché avevo 5 kill Su 6 del team E sono l'unico Che sono morto Ma porca di quella mannaggia Di quella vacca Non vorrei dirla Però 0 kill Comunque Se la porta avanti Aspetta Zitti 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 Tutti Zitti Oh mio dio Prendila Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Che il codice vero Sia con tutti noi In questa partita Devi volare Buttare No togli 5 No 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 Non andare Eh no Grande Raga E che faccio Ce l'ho Ce l'hai Allora Sono 10 persone Aspetta Guarda la save Dove sta andando Si muoverà Verso l'altro reboot Quello l'ha dritto te Tu devi essere il primo Esatto Devi essere il primo Ragazzi Ti sento Ragazzi Ti sento Ho bisogno di audio Perché qua letteralmente Sento le persone Che stanno Mantieni le armi Ma poi tu con ste armi Ma potresti pushare tutti Che la retina da 4 Con queste armi Powa Zitto Zitto Le persone Le persone mangiano Chissà cosa mangiano Per essere così forti Ok La provata è stata fatta Ditemi che non muore Po Raga io voglio No Ma cosa ridi C'è ma tu perdere la partita La tua scheda Questa è la cosa migliore Che mi sia mai capitata Negli ultimi vent'anni No vecchio te lo giuro Se tu fai uno short del genere Ti fa 2 milioni di views Per forza Sì sì 12 milioni Dillo pure nel video tranquillo Per forza Per forza Comunque signori Spero che questa 4 angoli challenge Che alla fine era diventata 3 Che alla fine abbiamo pure perso malamente E refe se eviti magari Di scattarrare Nel mentre che sto parlando Mi faresti un favore Non mi ricordo Codice ferro Sempre per sempre Nel legato soggetti Per il vero massimo supporto Like e iscrizione al canale Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi